Non potevo non avere un debito con i miei cani, cani e cani, perché mi hanno accompagnato tutta la mia vita, da quando sono nato, da adesso, cani più diversi, grandi cani, piccoli cani, cani di razzo, ma anche tanti cani bastardi, un po' nel mondo. Mi hanno accompagnato nelle mie avventure, sono stati anche protagonisti di molte avventure, le volevo raccontare perché sono storie molto particolari, alle quali sono molto affezionato e mi sembrano anche molto divertenti.